Le nostre giornate di preparazione all'anniversario della nascita di Don Antonio Seghezzi sono giunte a martedì quando abbiamo pensato di fare questa fiaccolata. La fiaccola è stata accesa alla lampada che è sempre accesa dove c'è il corpo di Don Antonio, quindi l'urna che contiene i resti di Don Antonio. Poi i giovani a staffetta hanno portato questa fiaccola fino all'inizio del sentiero che porta al luogo della speranza e poi con tutti i fedeli venuti abbiamo continuato recitando il rosario con i flambò fino al luogo della speranza. Abbiamo meditato i misteri dolorosi perché Don Antonio si sa ha vissuto proprio il suo martirio alla luce di Cristo nostro Signore. Abbiamo terminato con il mistero dell'ascensione del Signore proprio i piedi di questa statua di Cristo nostro Signore risorto che vittorioso ascende verso il cielo. Qui si accende una croce che rimane accesa tutte queste sere proprio per ricordare Don Antonio Seghezzi la sua vita, la sua fede e la sua spiritualità. Don Luca, come mai questo posto, il luogo della speranza, era così caro a Don Antonio? Il papà di Don Antonio possedeva una parte della cascina chiamata la Morandina che è proprio qui vicino. Quindi con Don Antonio veniva d'estate per fare il fieno per le bestie. Don Antonio ha conosciuto questo luogo particolarmente panoramico, particolarmente bello e questo luogo diventò il luogo in cui egli si fermava sempre a recitare il breviario, quindi a pregare ed è diventato quindi il luogo della preghiera. È diventato il luogo nel quale arrivano tutti coloro che desiderano affidare una richiesta particolare al Signore proprio qui nel luogo in cui Don Antonio si fermava in particolare in preghiera e quindi attraverso Don Antonio queste preghiere salgono al Signore. Ci siamo trovati questa sera nella continuazione del ricordo dell'anniversario della nascita di Don Antonio e stiamo parlando del 104esimo. Ci troviamo qui al luogo della speranza che a lui era tanto caro. Abbiamo avuto un'ottima partecipazione e speravamo in questo come momento per la meditazione e il ricordo. Invito chiunque lo voglia fare in qualsiasi momento per ritrovare se stesso in un luogo tanto caro a lui di volerci raggiungere in questo posto.